Il Palazzo Scaglione, oggi casa-museo, sorge nel cuore del centro storico di Sciacca, nel luogo in cui un tempo sorgeva la chiesa di Santo Stefano, costruita nel 1300 e poi demolita nel 1500. Il Cavaliere Francesco Scaglione fu un uomo di grande cultura e di immensa curiosità, e chiamò raccogliere e circondarsi di opere d'arte ed oggetti vari. Furono le sue figlie ad assecondare il desiderio testamentario di adeguare la casa a museo, lasciandone inalterata stabilità ed armonia. Il palazzo, a due livelli, è diviso in varie sale decorate, a tempera, con motivi a greca e i pezzi da collezione sono svariati. Vi si trovano candelieri, orologi, opere settecentesche di artisti di Sciacca, foto, cartoline, armi, monete del periodo greco-romano, dipinti del 1800, ceramiche di Capodimonte, mobili e tanto altro. I soffitti affrescati ed i pregiati pavimenti in maiolica del 1800 sono espressione di una notevole sintassi decorativa tipica della Sicilia, che mescola motivi ornamentali siculi, arabi, catalani, rinascimentali e barocchi. La casa è un esempio dello stile di vita del 1800, di una famiglia borghese di Sciacca, con il gusto dell'arte e la passione per il collezionismo.